In attesa del match di mercoledì dei Biancoverdi contro il Foggia, la Puglia domina nel primo atto dei playoff e Fattris. Oltre Satanelli, che hanno estromesso dai giochi Laturis, Monopoli e Virtus Francavilla hanno pareggiato contro Picerno e Monterosi ed in virtù del miglior piazzamento in campionato, accedono al secondo atto della post-season. Quella contro il Foggia sarà una sfida da prendere con delle molle, i rossoneri sono imbattuti contro l'Avellino e spicca in questo momento un calciatore che sta prendendo per mano i Satanelli, complice uno stato di forno invidiabile. Parliamo di Alessio Curcio, oggetto del desiderio dei lupi. Nella scorsa sessione di mercato estiva, il numero 10 della squadra da una metà al sicuro il punteggio contro i Corallini e al partenio si esalta, offrendo sempre prestazioni di livello assoluto. Vedi l'assist al 2-2 di Perrante nella sfida natalizia. Non solo i giorni C, il protagonista, anche negli altri due raggruppamenti sono venuti fuori i calciatori di spessore. Pollice in su anche per l'attaccante del Pescara Cernigoi, che grazie alla sua doppietta salvi dal fine di Zauri dal K.O. contro la Carrarese. Promosse anche Gubbio e Juventus 23, che continuano la loro scalata alla Serie B. Bocciate ancora Amaterica e Lecco che abbandonano il sogno della cadetteria tra le mura amiche. I play-off da sempre sono una lotteria e per i Dorici e i Lombardi il campionato non potrà raccontare più nulla. Peccato perché la cornecia di pubblico dello stadio Anconitano meritava di più. E fa ancora più male perché nei due precedenti campionato i marchigiani avevano abbattuto sia l'andata che il ritorno ai sardi dell'Orbia, che vincono la gara più importante delle tre. Rimandati anche gli azzurri dell'Ecco in casa contro la Propatria, che rischia il fallimento, un capo amaro che cancella in un colpo solo quanto di buono fatto da ragazzi di mister De Paola. Promossi con riserva, i vercellesi dall'ex avellino Comi della Pro, che contro la pregolettese dell'altro grande ex bianco verde Maranarini, passa il turno con il minimo sforzo, ovvero con un pareggio per 0-0.